Il Forum Siciliano dei Movimenti per l'Acqua e i Beni Comuni ha inviato una lettera aperta ai sindaci della provincia di Agrigento in merito alla diffida approvata lo scorso 27 aprile nei confronti del gestore di una società per azioni che si occupa appunto di acqua potabile. La diffida è un primo passo verso la rescissione del contratto. Nel documento il Forum Siciliano per l'Acqua chiede in sostanza ai sindaci del comprensorio agrigentino di nominare un consiglio direttivo dell'ATI che si assuma l'onere di procedere senza indugi alla risoluzione del contratto in danno del gestore e di quantificare secondo il principio UE chi inquina paga i danni ambientali prodotti nonché quelli arrecati alla salute e alla incolumità pubblica. Il Forum chiede inoltre di avviare tutte le procedure necessarie a stilare un piano d'ambito corrispondente alle effettive necessità dell'intera provincia e avviare le procedure per la costituzione di un'azienda speciale e consortile o di un consorzio di comuni cioè un ente di diritto pubblico che ricomprenda tutti i comuni della provincia al quale attribuire come soggetto gestore il SII nell'ambito provinciale. Il documento si conclude così l'acqua resta il paradigma di tutti i beni comuni e del livello di democrazia effettivamente esigibile dai cittadini e dalle comunità di cui i primi cittadini portano l'onore e l'onere di essere garanti e portavoce.